Buongiorno a tutti amici di Radio Francigena, eccoci qua, siamo praticamente a Castel di Tora, è prima mattina e il sole insomma sta già riscaldando anche le nostre anime, oltre che l'asfalto. È tutto molto molto bello, sta andando tutto molto bene, ma per chi ancora non avesse capito cosa stiamo facendo, stiamo visitando tutti i luoghi dove c'è questa traccia benedettina lungo questo importante cammino italiano e stiamo verificando che siano usufruibili da tutti, quindi tutti i servizi, i ristoranti, le banche, le farmacie, nonché le ospitalità. Il progetto Saber è praticamente partito e l'obiettivo è quello appunto di creare pacchetti turistici o comunque pacchetti di viaggio per tutti, anche per persone con esigenze speciali e quindi l'accessibilità finalmente entra a pieno titolo tra le caratteristiche, tra i criteri che un itinerario culturale deve avere. Ciao a tutti!